dopo interroghiamo flame mi raccomando ma io sono preparatissimo hai capito la c'hai voluto come mette armonico imbruttitissimo no me so tagliato devo fare la canzone poppona c'è il poppettone a questo punto ci inserisco un po di rock davide tu che ne pensi dell'armonico stavo cercando il fatto di selen dion si è perso l'armonico guarda ma guarda sta un po livelli terminale se è imbruttito no no la faccetta che accompagna l'armonico fondamentale ma mentre lo fai che premi la corda ti viene da ma se no fai la faccia non viene l'armonico è proprio fondamentale poi vorrei dire un bel armonico con dei single coil anche vorrei dire top infatti grazie